Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, giovedì 27 luglio, sempre con un orario diciamo da fuso, orario, mettiamola così con gli stati di testo, un po' contro luce, oggi siamo in penombra, ma non da penombra le notizie di oggi perché sono secondo me molto interessanti. Partiamo subito dalla questione dei vitalizi. Sulla questione dei vitalizi che ieri è stato approvato alla Camera con il voto del PD e del Movimento 5 Stelle, oggi l'umore che ho avuto leggendo i giornali, soprattutto quelli del centrodestra, è che veramente non gli basti mai, anche se Vittorio Masciocio sul giornale ha fatto il pezzo che tutto sommato anche io ieri pensavo e che è un pezzo piuttosto interessante, cioè sul fatto che una volta che si toccano i diritti acquisiti, sia pure quelli dei parlamentari, il passaggio da questi diritti acquisiti a quelli di tutti quanti non è così complicato. Ma insomma invece Verità e Libero titolano in maniera dura, aboliscono i vitalizi, ma non credeteli, Libero. La Verità è il bluff, questo è il pezzo di Belpietro. C'è ovviamente un elemento di grande ragionevolezza in quello che scrivono Belpietro e Feltri perché siccome questa cosa passa alla Camera, al Senato sarà molto più difficile che possa passare perché mancano i voti per ottenere questa legge, che peraltro oggi in una tabellina del Corriere della Sera ho visto valere per i prossimi dieci anni un risparmio non niente male secondo le elaborazioni fatte nel 2016 da Tito Boeri, si parla di 800 milioni di Euro risparmiati, circa un'ottantina di milioni di Euro risparmiati se si calcolasse il vitalizio, cioè la pensione dei 2.400 ex parlamentari, non già con le vecchie regole, ma in funzione dei contributi versati. Ieri c'erano tabelle di tutti i tipi, anche oggi sui giornali, in cui si mette in evidenza ad esempio che Amato ha per ora incassato un milione di Euro di pensione, o meglio vitalizi, e ha versato contributi per 300 mila Euro. E' del tutto evidente che questa sia una sproporzione che a nessuno piace e che soprattutto non può reggere nel sistema, ma vi voglio anche sottolineare come questa sproporzione tra i contributi versati e le pensioni incassate valga purtroppo per una grande parte degli italiani, perché un tempo il sistema pensionistico non ragionava in termini contributivi, ma retributivi, cioè si prendevano le pensioni in funzione degli ultimi stipendi e non del conto pensionistico che si accumulava nel tempo. Quindi se vogliamo fare i moralisti con i politici e facciamo bene a farlo, ricordiamo che poi i nostri padri e i nostri nonni, per chi ha nonni e padri che prendono le pensioni, se gli si dovesse toccare a loro la pensione con lo stesso criterio con cui la tocchiamo ai politici, sarebbero guai, perché anche nei loro casi ci sarebbero riduzioni fortissime del segno pensionistico. Però sui politici si può fare tutto, perché come sapete i politici fanno schifo e quindi tutto si può fare. Questo è un po' il ragionamento che fa Vittorio Mascioce, che mi sembra molto interessante. È anche vero che sarà molto difficile che questa cosa possa passare al Senato. Questo è l'altro elemento oggi sui giornali. Interviste sia di Forza Italia, perché mi interessa il centrodestra, a favore, sia contro. La Germini l'aveva detto ieri, lo dice anche oggi, come facciamo a votare contro a questi privilegi dei parlamentari, perché come giustamente nota Mascioce un tempo nascevano come diritto di poter fare parlamentari anche per le fasce più deboli della popolazione, mentre Baldelli, sempre del Movimento di Forza Italia, dice ricordatevi che se porta consensi questa battaglia la porta a Grillo e non certo al PD. Allora, una cosa che dice secondo me Baldelli, che è molto interessante, qui la chiudiamo con il Movimento, con le pensioni, è come in realtà, dice giustamente Baldelli, si è presentato in tribuna ieri, quando si votava la Camera, Grillo, per dare il senso fisico, plastico, che questa sia una cosa fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle. A me è venuta in mente un'immagine di una settimana fa, in cui Virginia Raggi, con tutti i casini che c'ha, dove si è presentata la lettura della sentenza di Mafia Capitale, che poi, poveretta, non è diventata Mafia Capitale, ma corruzione, mazzetta Capitale. Allora, l'idea di associare una faccia, un movimento, una persona a un cambiamento come quello, secondo me, sì, davvero, come posso dire, popolare, come quello di la corruzione a Roma, come quello delle pensioni in Parlamento, è una delle strategie di comunicazione del Movimento 5 Stelle che non è detto che gli vada molto bene. perché oggi, poi, alla fine, fa molto bene, e chapeau al Corriere della Sera, perché intervista il nuovo direttore generale da pochi mesi dell'Atac, che si chiama Bruno Rota, è uno che aveva gestito molto bene l'azienda municipalizzata dei trasporti di Milano, è uno che conosce bene questo mercato e che lo ha fatto anche fruttare. E Rota dice delle cose sull'Atac incredibili. Lui dice, ragazzi, guardate che io non so come si paghino gli stipendi, come riusciremo a pagare gli stipendi. Dice, io qua non ci sto a tenere, ve la semplifico, a rimanere qua e metterci la faccia sui casini fatti negli ultimi quattro anni. Io non ci sto a spiegare ai sindacati che rappresentano sì 200-300 persone su 11 mila e che non hanno la più pallida idea. Io non ci sto a vedere i sindacalisti che vanno in televisione e parlano di sicurezza e che non sanno neanche da dove si inizia a pensare della sicurezza. Io non ci sto in un'azienda in cui, io non ci sto, semplifico, ma era questo il senso della parola, in cui non solo non so come pagare gli stipendi, ma ci sono persone che dicono che fanno turni massacranti e in realtà guidano sì e no tre ore al giorno. Rota farà una brutta fine, ve lo dico io da un punto di vista lavorativo, perché uno che parla così esplicitamente e in maniera così favolosa del disastro costruito sull'Atac, cioè sul clientelismo degli ultimi vent'anni, non c'è Raggi che tenga, perché la Raggi ha nominato una persona straordinaria come Rota e quindi su questo io devo essere convintissimo dell'ottima operazione fatta da lui da lei. Beh, insomma, io dico la verità, vedrete che la cosa lì dopo questa intervista non finisce bene. Vi segnalo quindi per chi avesse voglia di leggersi questa intervista di Rota sul Corriere della Sera che dà anche il senso quando vi chiedono i soldi sui trasporti pubblici in tutta Italia, Roma Capitale, eccetera, di pensare che questo conto quando finiremo di pagarlo? Perché tutta Italia deve pagare le disfunzioni di un'azienda gestita con i piedi e in cui io spero che Rota gli sia data la possibilità di agire con il lancia-fiamme per rompere tutto e togliere tutte le incrostazioni che ci sono in quella azienda. A proposito di lancia-fiamme, oggi l'intervista sul Corriere della Sera di una persona, ve la leggete, molto interessante a Roma, di chi si deve dar da fare da solo invece perché lo Stato non c'è e cioè per difendersi dagli incendi che stanno distruggendo la pineta di Castelfusano. Cioè questa è la città, una città che non sa fare le sue cose basic, cioè non sa fare i trasporti e non sa difendere i cittadini dagli incendi che sono una specie di calamità naturale che vale per tutta l'Italia ma vale anche per quelle spiagge straordinarie dove è nata la civiltà di questo paese e dove ci si deve industriare da soli per poter difendersi dal fuoco. Andiamo avanti con le notizie di giornata, stupenda nella sua drammaticità quello che è avvenuto in Unicredito, un hacker, degli hacker hanno violato 400.000 account e è anche vero che questi account non sono persone che avevano utilizzato i prestiti personali quindi sono stati violati in una società parallela rispetto a quella di Unicredito ma io mi chiedo, ci chiedete le password alte, basse, con la X, con la J, come dimostra il caso di Yahoo non c'è password che tenga, nel senso che noi siamo obbligati a fare degli sforzi incredibili di ricordo delle password, le grandi aziende poi saltano su hackeraggi per i quali i loro sistemi informatici non sono adeguati, quindi a noi ci chiedono degli sforzi che loro stessi non fanno, questo non riguarda certamente Unicredito e questo caso specifico perché questo caso specifico in realtà il massimo che sono riusciti a rubare pare sono le anagrafiche, cioè compleanni e probabilmente il numero dell'Iban. A questo punto però bisogna stare attenti perché si può rischiare il cosiddetto phishing, cioè persone che vi mandano, questi malintenzionati vi mandano delle mail che sembrano quelle dell'Unicredito dell'azienda che voi conoscete bene con alcuni dati sensibili come quello del Liban che loro a questo punto possono mandare in queste finte email, quindi rendendole più verosimili e la trappola è se voi cliccate su queste email. L'altra cosa incredibile è che Unicredito ha detto di aver avuto in maniera questo attacco di pirataggio informatico, ma il primo pirataggio informatico è avvenuto a settembre-ottobre del 2016, l'ultimo a giugno del 2017 e questo come è il caso Yahoo dove mi sembra che non so quante 500 milioni di mail sono state violate e questo dimostra come in realtà non c'è una grandissima tempestività nell'accorgersi, voglio essere positivo, di queste operazioni di hackeraggio. Ci sarebbe molto da dire su questo, così come tanto ci sarebbe da dire su Fincantieri la guerra tra Italia e Francia, 52,3 miliardi di investimenti fatti dai francesi in Italia per comprare aziende italiane, 7,6 invece gli acquisti da parte di italiani, di aziende francesi secondo una tabella del sole 24 ore, durissima la Ceretelli con Macron, non altrettanto mi viene da dire lo era quando Macron e il suo europeismo piaceva a tutti i giornali italiani. Il più grande è Riccardo Ruggeri, andate a vedere sul suo blog di Riccardo Ruggeri o sulla verità in cui dice che Macron è un genio perché è un sovranista vestito da globalista, mascherato da globalista, ma non lo è, resta un sovranista alla Le Pen. Sui migranti è incredibile quest'altra storia, cioè ci saranno 60 unità navali, elicotteri, droni, mille militari di fronte alle Libia per fare una specie di blocco navale, ma quando queste cose le chiedevano Salvini, certi esponenti di Forza Italia, Sallusti, Feltri, Mario Giordano, nelle trasmissioni per esempio di Matrix, tutti gli altri dicono ma che dici ma come si può fare? Guardate la prossima sarà quella che le ONG sono favolose e adesso non sono più favolose, il blocco navale si può fare, l'accoglienza è una minchiata, quello dicevano loro era una cosa incredibile, adesso abbiamo fatto il blocco navale davanti alla Libia, così zitti zitti, una notizia sul Corriere la sera, mi fa impazzire, ci saranno 60 unità navali dell'esercito, della Marina, mille militari, non 50, mille militari e sapete che faranno? Faranno una specie di barriera contro l'immigrazione, contro l'accoglienza per cui andiamo a sfilare a Milano con Sala e tutti zitti e con Grasso che faceva questo e la città senza muri, lo stesso Presidente del Senato che poi avallerà una missione militare in cui ci sono mille militari nel mare, fanno bene, sono d'accordo con loro, ma fino a ieri che abbiamo aspettato? Io la trovo stupenda. E a proposito di Macron e di piccoli Napoleoni, oggi vale la pena, se avete un po' di tempo, non siamo ancora d'estate, ma vale la pena leggersi Francesco Perfetti sulle pagine culturali del giornale perché è il racconto di Madame d'Estaël, che è questa signora, è fantastico perché così la descrissero alla fine del Settecento i suoi più grandi estimatori, dissero che aveva una caratteristica molto crudele Madame d'Estaël, la baronessa d'Estaël per una donna, aveva una caratteristica molto crudele per una donna e sapete qual è? Non era bella, così dicevano i suoi contemporanei, però era il salotto che contava di più a Parigi, quello di Tagliano, del principe di Benevento appunto, e dei grandi che fecero un ragionamento sulla rivoluzione francese meno populista, verrebbe dire da oggi, rispetto a quello che tutti i libri hanno fatto. La donna che finì in esilio perché il Macron dell'epoca, diciamo si parva a Lichet, che era Napoleone, la fece fuori dai salotti francesi perché osava criticare Napoleone e quindi il Macron dell'epoca. Se volete leggervi Perfetti vi racconta una Madame d'Estaël molto divertente per il suo modo di condurre le battaglie di libertà alla fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento, nell'esilio non probabilmente dorato di questi salotti anti-bonapartisti che c'erano in Francia. Una piccola chicca se avete voglia sul giornale di oggi, vi do un appuntamento a domani, un abbraccio a tutti quanti voi, ciao!